Buongiorno da Genova, entusiasmo alle stelle tra i tifosi più cerchiati per la presentazione di Antonio Cassano, tantissimi supporter doriani che sono venuti ad applaudire il loro nuovo Begnamino, una conferenza stampa durata poco più di mezz'ora dove Cassano ha detto voglio tornare ad essere un giocatore importante. Ho scelto la Sampdoria perché io penso che questa sia la città giusta, infatti stamattina anche la gente mi ha accolto in una maniera incredibile, io ho bisogno di affetto, appena ricevo affetto dal 110%, voglio ritornare innanzitutto a essere un calciatore importante. Basta dire Cassano del puntalare di rigore, Cassano a sinistra, calcio, primo guinzo, di fatto Antonio. Dentro il pallone per Cassano di pallone, ancora Cassano al limite, Cassano può calciare col sinistro, Cassano! Cassano! La Sampdoria è già avanti con Fanta Antonio dopo 5 minuti! Qui ecco se l'ha cercato, l'ha lasciato lo spazio, poi di piatto, di sinistra, ha preso più le soldi. Attacca Cassano, si accentra Cassano, in E2 su di lui, ancora Cassano che esiste, due di sinistro, secondo palo, dopo l'interno di Rente, infali dalla Sampdoria! E qui Cassano ha fatto una grandissima cosa perché da fermo ha dribblato, poi ha ripreso la palla e a giro di sinistro un grande cross! Cassano, buono l'aggancio, destro di Cassano, Rente! Cassano! Un gol incredibile! Sampdoria 1, Christine Buffett,ero! Cassano! 5평! Bello Cassano! Il best- Il secondo palo, quarta rete per Cassano, guardate, straordinario pulpo da biliatto, pulpo piazzato, da zero Sampdoria. Grazie a tutti. 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 Soffiano forti venti di burrasca in casa. L'idiglio tra il presidente Riccardo Garrone e il suo calciatore più rappresentativo Antonio Cassano sarebbe finito. Secondo l'emittente Telenord, tra i due si sarebbe acceso un diverbio molto piccato dopo la mancata partecipazione del talento di Bari Vecchia alla consegna della rete d'argento del Club De Paoli di lavagna. La lite tra cacciatore e numero uno blu cerchiato potrebbe avere dirette conseguenze sul mercato d'Oriano. Non si esclude una messa in vendita di Cassano già a gennaio. A termine dell'incontro causa della rottura, il presidente Garrone ha rilasciato una lunga intervista. A me dispiace molto perché Cassano, a parte uno straordinario talento, forse sarebbe se non avesse avuto quel caratteraccio, se non fosse un po' uno sbruffone, ogni tanto senza capacità di controllo dei raptus che gli vengono, sarebbe forse uno dei più grandi giocatori del mondo. E poi con lui c'era sempre stato un ottimo rapporto. Lui rispettava solo me nella società. A volte ritornano e di tornare a Genova a Marassi e in blu cerchiato Antonio Cassano ne aveva una gran voglia. Effettuate le visite mediche si attende a breve la firma sul contratto. Siccome questa parola sogno si ripete in tutte le interviste che fanno tutti i calciatori, per me era un sogno tornare a casa. Mi spiace tornare qua senza la persona che nel calcio ho amato tanto, che era il presidente Garrone. È l'unica cosa che nel calcio non rifarei mai. perché lì mi si è chiusa la tabarella. È stato l'unico vero errore. Gli altri li rifarei mille volte, senza nessun tipo di problema. Però spero che lui mi stia sentendo, che gli voglio tanto bene. Questa è la cosa fondamentale per me, nel mio cuore. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.